Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sia per email ci sono delle copie in cartaceo anche fuori, in varie lingue. La stampa sta continuando adesso quindi probabilmente se non siete riusciti ad averlo perché sono finite arriveranno nel corso dell'incontro. Grazie a tutti. Sono tutte traduzioni di lavoro, molto di lavoro e anche piuttosto provvisorie, però comunque possono esservi utili per fare il vostro lavoro. Mi raccomando l'embargo è al termine dell'incontro di questa sera. Quindi l'embargo sul documento che riceverete adesso è al termine di questo nostro incontro. Nel documento parleranno stasera i segretari speciali, il prefetto del Dicastero per la comunicazione, padre Giacomo Costa, che è il segretario fino a domani, il segretario della Commissione per l'informazione del Sinodo. E a me preme invece sottolineare tre cose, tre parole che il Papa diceva stasera a conclusione dei lavori. Anzitutto sottolineava lo sforzo fatto in questi giorni di inserire nuovamente la ricca tradizione della Chiesa nella storia degli uomini, del nostro tempo e della terra che in queste settimane abbiamo conosciuto meglio. La seconda cosa è il valore del lavoro fatto dai padri sinodali, dai partecipanti al Sinodo per ascoltare la realtà dell'Amazzonia, quel lavoro che lui definiva diagnosi, quindi diagnosi pastorale, culturale, sociale ed ecologica. Un lavoro rivolto a tutti, non solo dentro la Chiesa. E la terza cosa, e mi preme dirla qui a voi questa sera, è il ringraziamento che il Papa ha rivolto a tutti gli operatori dell'informazione per aver favorito la diffusione del Sinodo attraverso i mezzi di comunicazione e questo ha favorito e promosso questo racconto del Sinodo al mondo. Bene, io non mi spingo oltre e darei la parola al dottor Paolo Ruffini, il prefetto del di Castello per la comunicazione. Mi rubo anch'io pochissimi quasi secondi o minuti per sottolineare come il documento lo avete tutti ormai, lo avete anche con tutti le votazioni che sono state fatte numero per numero. Vi potete rendere conto guardandolo come sia davvero il frutto di un cammino, di un lavoro, di un discernimento sinodale e anche nella sua costruzione come sia un documento complesso dove tutto davvero si tiene in un discorso molto ampio, che comprende dei capitoli che poi sono legati alle parole chiave anche poco fa, sottolineate da Matteo, quindi la dimensione culturale, pastorale, sinodale ed ecologica. Lo ho detto in un ordine diverso ma il senso è che davvero tutto si tiene in un documento che ha una dimensione complessiva. L'invito che poi peraltro ha fatto anche il Santo Padre nel suo discorso finale a voi come operatori di media, a noi nel presentarvelo e anche a chi lo leggerà poi come singolo, come comunità, e davvero di leggere la complessità di questo documento come un momento di una chiesa in cammino e come ha detto anche il Papa, sottolineerei anch'io riprendendo le sue parole, l'aspetto della diagnosi contenuta nel documento, quindi nel cercare di capire il nostro tempo e cosa il nostro tempo ci chiede, l'aspetto della diagnosi. Vorrei citarvi dall'originale la citazione fatta dal Papa di Charles Pegui a proposito di stare attenti alle cose e non alle cositas, detto in spagnolo e quindi a non pensare che siano le piccole cose quelle che fanno, danno la lettura di quello che è in questo momento il cammino della chiesa, ma le cose generali e la citazione di Charles Pegui in quella che è la sua opera opera, la nota congiunta su Cartesio e la filosofia cartesiana, e ve la leggo, poiché essi non hanno la forza e la grazia di essere della natura, credono di essere della grazia, poiché non hanno il coraggio temporale, credono di essere entrati nella penetrazione dell'Eterno, poiché non hanno il coraggio di essere del mondo, credono di essere di Dio, poiché non hanno il coraggio di essere di uno dei partiti dell'uomo, credono di essere del partito di Dio, poiché non sono dell'uomo, credono di essere di Dio, poiché non amano nessuno, credono di amare Dio. Credo che sia un ammonimento a tutti noi che operano in Emilia e a tutti i cristiani e a tutti i cattolici a cercare, diciamo, di non essere come quelli che credono di amare Dio e in realtà non amano nessuno nella comprensione di quella che è la realtà. Questo mi porta a dire che tutto questo sta dentro il cammino sinodale, su cui comunque darei la parola a Padre Giacomo. Col cammino sinodale abbiamo cercato in questi giorni di trasmettervi questo percorso che abbiamo fatto, il documento che avete tra le mani è un frutto di questo cammino, ma è anche qualcosa che va superato in un percorso che continua. E il Papa ha sottolineato però l'importanza di questo camminare insieme, della sinodalità. La Chiesa sta imparando ad ascoltare, la Chiesa sta imparando a discernere, a capire come la tradizione può esprimersi in maniera feconda nelle situazioni di oggi. E questo ci fa fare dei passi e il documento presenta dei semi che sicuramente si svilupperanno e sentiremo anche come. In modo particolare è stato sottolineato come la diagnosi di quello che si sta vivendo in Amazogna sia quanto deve stare al centro della nostra attenzione. Questa urgenza, questa urgenza e questa consapevolezza che è cresciuta da Parigi, laurato sì, e che continua a crescere attraverso tanti giovani, questa consapevolezza, cito il Papa, del pericolo ecologico che esiste non soltanto in Amazogna ma in tanti luoghi. E questa urgenza, dall'altra parte, dell'annuncio del Vangelo, se c'è il fuoco che distrugge l'Amazogna, c'è il fuoco che non distrugge, è quello che anima l'annuncio del Vangelo, questa impegnarsi per la vita di tutto e di tutto il creato. Penso che concretamente, proprio all'interno di questo, imparare a camminare insieme, che ha coinvolto la Chiesa qua, e ha dato dei frutti di gioia, dovete vedere le facce dei padri sinodali quando sono usciti, proprio trasmettendo la gioia di questo camminare insieme e che si deve trasmettere e vivere all'interno della Chiesa in Amazogna, in tutte le Chiese, ma anche con altre persone di buona volontà con cui desideriamo lavorare e curare la casa comune. Grazie Padre Giacomo. Io a questo punto darei la parola a Sua Eccellenza Monsignor Davide Martinez di Aguirre, Guinea, il Vicario Apostolico di Puerto Maldonado, anche segretario speciale di questo sinodo che abbiamo già avuto qui da noi, che ringrazio per essere tornato e dicendo la parola. Molto bene, grazie. Io voglio cominciare recogendo la frase che dice uno dei nativi, uno dei miembri dei poboli indigini che stava nel sinodo. Per desgraccia, la extraczione del oro sta più vicino di nostre comunità che la parola di Dio. e a me questa frase mi sembra che riflessa molto bene lo che abbiamo vivito in questi giorni e lo che è questo documento. Ha sido una condensazione di quello che il Papa ci ha detto nel lato di Tosì, il grito della terra e il grito dei poboli. abbiamo ascoltato a tutti i obispi che traivano di loro loro, abbiamo ascoltato a tutti i auditori, a tutti i auditori che hanno partecipato, abbiamo ascoltato a tutti i poboli indigini, il grito di asfixia. La situazione in cui si vive la Amazonia di terra disputata ha stato presente in ogni discorso, in la maggior parte dei discorsi dei padri sinodali. Questo grito di asfixia si ha ascoltato e si sentiva nel aula il rostro delle comunità di questi poboli indigini che conosciamo, che vediamo, con quelli abbiamo la vita e che vediamo asfixiati per tutta la invasione che viene codiciando i sui prodotti, codiciando i vieni della terra. Nel documento si vanno a incontrar come sta tutta la preoccupazione della iglesia nella Amazonia, la preoccupazione per i territori. Il territorio è la vita dei poboli. Si recogìa di una delle martiri della Amazonia, la hermana Dorothy Stein che ha citato di un'epoca di un'epoca fuerti in cui ci siamo deteniti è la inculturazione. Queremo che i popolini indigeni, loro lo reclamano, asuman il protagonismo in loro storia di evangelizzazione, che loro agarren il reto di essere iglesia e, da essere iglesia, essere attori transformatori della nostra società, attori transformatori della Amazonia. Amazonezzarci e amazonezzarci a quelli che vengono anche a disfrutar della Amazonia. Il documento sta plagato di testimonios e chiamati a essere aliati dei popolini indigeni in la defensa di loro culture, in la defensa di loro territori, in la defensa della vita. Un secondo signo che mi sembra importante, un'immagine. La prima, dove cominciò il sinodo, il Papa Francisco in Porto Maldonado, con i popolini indigeni indigeni, di tu a tu, sin interlocutori, entre loro. Venimmo qui a Roma, viene la Amazonia, viene il Amazonas, con le sue lluvias, con il suo carattere un poco più selvatico, più salvaje. E venimmo a Roma, trattando i nostri colori, nostri ilusioni e nostri preoccupazioni. E la immagine della entrata del Papa Francisco, rodeato dei popolini amazonelli, dei popolini indigeni, imparando una hilera di obispi al sinodo, imparando la Iglesia. Nos vamos a la Amazonia con esa immagine del Papa, una vez più dicendone, avancen, hacia aguas più profondi, vayan più allà. Esti problemi che abbiamo ascoltato, e lui diceva, toda questa violenza che abbiamo ascoltato qui nel aula, exige un desbordi, nos exige dare più. È quello che si vuole riflettere nel documento, che abbiamo che andare più allà, e che la nostra entrega all'Amazonia deve essere più abbondante e più desbordante. Grazie, Monsignor David. Do ora la parola a Sua Eminenza il Cardinal Michael Cerny, che è sottosegretario, come sapete, della sezione Migranti e Rifugiati, del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ma è anche lui, segretario speciale di questo sinodo. Grazie. Grazie molto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. in his very moving closing remarks one of the most one of the very moving paragraphs in fact was addressed to you I don't know if you've picked it up yet he thanked you he thanked you for helping the synod to reach the people and he hoped that you would continue to help the synod help the church to reach the people it was a really a warm greeting of gratitude and appreciation and I'm very happy to have been able to repeat it in his name to you and in that sense to thank you for your for your energy for your interest for your efforts in difficult working conditions often to help us to speak and help us also to be heard I think the question that many of you will be wondering as you to rapidly glance at the document and try to make your deadlines is what are these conversions why is the document structured in terms of conversions so if I could talk about that as the kind of point of entry that the four topics the pastoral the cultural the ecological and the synodal are all part of trying to respond to the challenge of the title the title of the synod as you know you've been told a hundred times is new paths new paths for the church new paths for for integral ecology how did the new paths become conversions and I think that one way of saying it is that the without conversions without conversions we are discovering that there are really no new paths without conversions we are repeating what we've done before maybe we we do more of it or we talk about it more but there's no change there is no no real change and I think with the Amazon burning we many more people are realizing that things have to change they cannot we cannot keep repeating old responses to urgent problems and expect to get better results than we've been getting so far so one of the things that I think makes this synod experience so motivating is that we have managed somehow with the help of God and with the help of all the participants to really take hold of the problem to really take hold of the problem and taking hold of the problem doesn't mean analyzing it more or striking more committees or having more task forces it means recognizing that if we're going to meet the problem we're going to have to change and the word conversion is a very strong word for change it has a personal dimension a communal dimension and an objective dimension you could say that new paths are the objective way of saying change new paths or what you can actually see happening when there's new movement new responses to the pressing problems but without the more invisible change change of hearts and change of ways of being together and of doing together we're not going to we're not going to make it we're not going to make it and I think that our enthusiasm and our joy in sharing the results of the synod with you is that one cannot help but be encouraged that an important body in the world has found ways of getting hold of the problem and is willing to admit to itself and to everyone else that if we're going to face the problem we have to change and the first change that the Pope himself said it's the most important one is the pastoral change it's the way in which the church is church and acts as church among its people that we have to do better in bringing the good news of Jesus Christ to everyone and we are trying to do better because we know that people need and want to hear the good news they need and want to hear the word of hope but conditions are changing rapidly and we're not necessarily succeeding to reach them if we continue doing what we've already been doing so there's a whole series of new efforts and new emphasis on how the church actually lives acts works exists in the Amazon and hopefully therefore with good results elsewhere the second conversion is cultural it's a word it's a complex word you've written about it you know that it has many different meanings but what it really means in this context is to deeply respect how the other is in the world not to assume that the way I am or the way we are is definitive is the norm is the way it has to be no that the way people are is different and that those differences need to be embraced if you don't begin with an attitude of deep respect the other is not going to be able to be and to flourish and for the church to encourage and learn indeed how to be culturally respectful interculturally respectful I think is a very important step forward in a world which we claim is globalizing and therefore becoming more united but we know that in fact the divisions and the tensions and the frictions are if anything getting worse not better thirdly the ecological this is in one sense fashionable today but on the other hand we still largely have not got it we don't we don't seem to have gotten it yet and this effort to get it is I think very important and I hope it will have very good effects in the Amazon region but also beyond it the ecological crisis is so deep that if we don't change we won't make it that's the message the ecological crisis is so deep that if we don't change we won't make it I spent some years in Africa and I learned an expression which I had never heard anywhere else it was called the curse of oil the curse of oil and people in Africa would see that there were some countries who had oil and others who didn't and after a while they figured out that the ones who had were cursed the ones who had oil were cursed and I think this is a similar insight here in the case of the Amazon that the Amazon with all its wealth if things don't change is going to find itself cursed because people will come and will take everything that is worthwhile that is that is that has can be given a market value and they will destroy it and they will end up destroying us so let's not allow the all the wealth all the the natural and and human wealth of the Amazon to turn into a curse and finally synodal synodal is the most difficult word it doesn't mean very much to your to your readers or to your listeners but it is it is an important word that is helping us in the church to again learn better how to be church and it's a better better expression for how how the church can move forward that's why the paths the paths is such an important image it's a way of moving it's a way of moving together it's a way of involving people in the movement and it's a way of translating our listening our reflecting our praying our worshipping our spirituality into the discovery of where we should go and how we should do and this is very very important for instance we have rightly so great faith in democracy but at least the forms of democracy that we're practicing nowadays don't seem to help us to find the way forward we need to find ways of finding the way forward and the synodal approach which is based on listening on reflecting on faith on prayer is a way of finding the way forward and we hope to learn more and more how to share it also with people of other faiths or people of no religious beliefs because it's a very important discovery a very important treasure and so I conclude in the name of this very ancient institution the church with another quotation from the holy father he said right at the beginning of his remarks today that the tradition you can put a capital T if you like tradition is not a museum item tradition is not a storeroom for ashes tradition is the resource for the future tradition is what we have to offer so that we might go forward and this is what we are in these few words also sharing with you this evening because this is what we have lived in the last three weeks which is preceded by practically three or more years of preparation we have brought our tradition into play so that we can find a way forward together I think that the young people who are demonstrating are asking what are the resources of our civilization that's going to make it possible for us to all survive on this planet we believe that we are entrusted with a very important resource which is our tradition our good news and this is what we're happy to be able to share also with you this evening thank you thank you cardinal cerny and grazie quindi a monsignor david per aver portato averci portato in amazzonia nella ricezione amazzonica di questo documento grazie a sua eminenza cardinal cerny per la lettura che ci ha dato del documento e questa chiave di lettura che è quella della conversione appunto ricapitolata in quattro in quattro punti io vorrei dire due cose prima di dare spazio alle domande la prima ma è che per vostra informazione poiché nel documento che avete ricevuto non c'è i padri presenti erano 181 questa sera quindi 181 padri votanti questa sera la maggioranza dunque era di 120 la maggioranza per i due terzi sì esatto e questa era la prima cosa la seconda cosa è che chiederei di tenere le domande questa sera perché chiaramente vi diamo la possibilità adesso per un po' di domande di tenerle strettamente sul documento visto che quello che è stato presentato oggi è la conclusione del lavoro di questo signato molto bene prego Antonio Eminenza li voglio chiedere una cosa solo vedendo i voti i più bassi sono su 128 al numero 111 e 137 al numero 103 cioè i viti provati e l'accesso della donna ai ministeri a un pubblico ministero allora mi chiedo se questo vuol dire che c'è stata una minoranza cioè una grande opposizione nel 41 di una parte e 30 dell'altra a queste due cose che non è che siano l'importante di tutto il documento ma che sono cose aspettate dell'opinione pubblica posso rispondere in inglese? in inglese in inglese no what you're highlighting is that there were these questions which you've known about since before the synod began which are difficult questions and that means that we have made progress on these questions we have not made as much as we have on others but the progress is ongoing so it's yes there's 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 more to reflect there's more to listen there's more to think and the processes are going forward as I think the both of the paragraphs also indicate da una rapida scorsa poi dei numeri vedete che tutti i punti del documento hanno ricevuto la maggioranza dei due terzi questo solo per una specifica Chris Chris Alteri Catholic Herald for Cardinal Cerny Your Eminence just to be clear because synodality is a huge concept it's something that's been talked about since the beginning of you know Pope Francis pontificate you said it doesn't mean much to our readers we've had a hard time getting our heads around what it means concretely that's too big a question for right now but seeing as it made it into the synod's final document did the synod fathers have themselves a working understanding of what it is and could you share that with us I think I think that the the dynamic of the synod is such that and everyone had a had a sense of what it meant because we were doing it whether everyone could explain it in words I'm not so sure but I'm not sure that that mattered I think that the sense that we were that we were first of all very well prepared that before the synod itself began there had been an extraordinary unprecedented process of listening so we came already with a very good beginning and that this listening continued and it continued in different contexts in the aula in the small groups in informally and you could say how do you know you're right it's not easy to explain in words but how do you know that how do you know that synodality is working you know that synodality is working when you find yourself voting for something which you knew before the synod began that you disagreed with and now you've learned to appreciate that this value this proposal this this step is something that's worthwhile that's well grounded and it's worth giving a try and that is an that is an important experience of the process Marco Politi Marco Politi Eminenza Cerni le risulta che nel comitato post-sinodale ci sarà anche una donna seconda domanda sempre su questo tema nel documento si accenna a un dialogo di nuovo con la commissione sul diaconato femminile significa che verrà rilanciata questa commissione grazie tra i tre membri i tre membri di nomina pontificia il santo padre che ancora non sono stati annunciati comunque il santo padre ha detto che uno sarà un laico una laica e una religione e una religione seconda yes the paragraph which you're referring to says that the commission will continue and that the issues that were raised in the synod will be shared with the commission and I think it's about the idea of letting deacons married deacons right now become priests what is the more universal approach to the subject that some people wanted I think what some people felt was that consulting about this in the amazon context was not sufficient and that they wanted it consulted in broader context whereas others felt that the existing norms of canon law and of church practice and experience allow us to consider this within the context of a specific region so that was the you might say difference of opinion the pope in his speech appeared to critique the section on women which he said risked being too functionalist if I understood him properly that there's need for a much deeper reflection on the role of women which goes beyond their functions could you explain what you think he meant by that first of all I don't think he was criticizing the document I think he was criticizing us yourselves included in other words people people not just the authors of the or the editors of the document people tend to think of the question of women in the church in terms of functions can they do this can they do that are they in this or are they in that and that's reducing the vocation the contribution and the role of women in the church to functions that's what he was trying to say thank you the second è stato un processo che acaba di cominciare. C'è recuperare la pratica, per esempio, di la escucha, che si lavorò molto in la prima parte, che si ha planteato, come si va a seguir ascoltando a i popoli indigeni, come si va a accompagnare i sui luttori. Che si ha planteato, come la Iglesia va a fare frente, o va a continuare facendo frente, non solamente dicendo no, sino con propostas, a questa agresiva destruzione che sufre la Amazonia in funcione di interessi economici molto mezquino. E, finalmente, il tema della mujer, continuiamo in questo tema, come, che è lo che hanno fatto le donne le donne le donne le donne? Come continuare impostandosi di le donne le donne? Bene, io credo che nel testo una delle cose che sta marcando nel sinodo è il deseo di seguire caminando in sinodalità, seguire caminando in comunione. Come già ha comentato il Cardenal Cerni, una delle cose che ha caratterizzato a questo processo è stata tutta la etapa previa. siamo in un momento, queste tre settemane che abbiamo avuto in Roma con questo documento è uno dei frutti che stiamo cosechando, però il sinodo, o il processo, segue continuando. E a me mi sembra che non si può frenare, che lo che ha cominciato va a continuare. E, in effetti, tra gli accordi che si hanno fatto, sta l'intento di seguire la Amazonia come un tutto, essere capace di stabilizzare queste redes che ci aiutano a ottenere alternativi insieme per andare a risolvere i problemi di una forma comunale. Se, di alcuna maniera, il CAPITAL è capace di organizarsi per il esattivismo tan voraz che c'è in la Amazonia, per questi progetti che sono così agressivi contro le comuni, di alcuna maniera, anche noi sentiamo che abbiamo di seguire organizzando in le comuni, in i popolini indigini, in tutte le comuni, anche in le città, seguire organizzandone a través della Repan e altri organismi che si stanno proponendo tener che organizzarnos per poter dare una risposta a tutto questo. E, rispetto al tema della mujer, il Papa come sempre ci chiede di andare più allà, come che è un hombre che non si conforma facile, e lui sembra come che va un passi più avanti che il resto. Per me ha stato un gran reto il che ci ha lanciato a tutti, a le donne e al resto, come seguirei repensando come iglesia questo papel di una mujer che non si può, di niente servirei a voler a caer nel clericalismo, che molte volte stiamo criticando, e ora le donne anche vanno a entrare nella stessa dinamica. Io ho sentito a molte donne dicendo che non vogliamo entrare in questa dinamica e ripensare come va a essere il papel. Io credo che è il gran reto che abbiamo e che possiamo poter rispondere in queste organizzazioni, come la Repan o altre, che vanno a sorgere dopo di tutto questo processo sinodale. Grazie. Il microfono qui, c'è il signore in quarta fila qui al centro. Buonasera, Stefano Pitari di Washington Post. Una domanda per la sua eminenza Cerny. Nella versione inglese del documento si fa riferimento al, cito, to ordain priests suitable and esteemed men of the community. Stiamo parlando quindi di quindi stiamo parlando necessariamente di diaconi, non di uomini qualsiasi nel nove o dei bili probati. Questo è un cambiamento rispetto all'idea originaria dei bili probati o si è sempre partito dal presupposto che dovessero essere innanzitutto diaconi? No priest is ordained without first being a deacon. Whether the proposals which are called vii probati included this fact explicitly or not, I don't know. I don't know the topic so well. But the fact is you have to be a deacon first even if very briefly and that's what's usually called the transitional deacon. in this case what we've called for here is that the experience of being a deacon of what is usually a permanent deacon is a is a very important and useful prerequisite for this proposal. Dian Montagna? I don't know how much time. that's what bishops do. Dian Montagna from LifeSite News. A question about paragraph 95. This is in the English but I assume hope that all of the paragraphs are the same. It says it is urgent for the Amazon church to promote and confer ministries for men and women in an equitable manner. So my question is are we to see ministerial roles for women at mass? The document speaks of conferring the ministries of lector and acolyte on women I believe and how are we to see the whole question of women deacons that has come up so much even yesterday we had we had a bishop saying that Pope Benedict in a way had opened up the possibility for a women's women's deaconate. How do we see all of that today in light of the fact that Pope Benedict himself has said that that is totally absurd and wrong to suggest that he in any way opened up a women's deaconate? Right. Archbishop Gonsfine Archbishop Gonsfine excuse me thank you thank you Paragraph 95 is referring to both existing and new ministries and there are other places in the document which talk about new ministries and so the new ministries and for example the traditional ministries of acolyte and lecture could be conferred on men and women and that's what Paragraph 95 is speaking about and you have your response to your second question in the paragraph that we've already looked at about deacons I don't know the number 103 no 103 says what the synod wanted to say about that Jean-Marie Jean-Marie Genoa Figaro Eminenza Paragrafo 111 di fatto il fatto che non si parla più di veri probati ma di diaconi permanenti appare come un tipo di restrizione nel senso che più prudente si deve avere uomini preparati per l'amazonia ma questa precisione quando la mettiamo al piano universale può dire esattamente il contrario può dire che tutti i diaconi permanenti del mondo possono un giorno diventare prete questa è la mia domanda grazie grazie ci sono altre domande c'è la giù c'è l'ora cardinal cerni so as I look at the whole document and I think about how the church is actually configured in the amazon with many women already leading the churches I'm just wondering if you have any comments I mean I think for the first time we heard many bishops who said they were very much in favor of opening the diaconate for women as a way of really acknowledging what they already do in the church and so I'm curious about the dynamic how you saw it in terms of why we're going to study the diaconate again that's a good thing in some way that we need to keep the conversation going but why does the door get opened in terms of and I'm also for that as well but I'm just thinking about how the church actually functions why wasn't women's ministry made more of a priority in terms of that you understand very well how the church functions that's so that what the church is very respectful of is the different levels there are things that can be decided in a parish there are things that can be decided in a diocese there are things that are decided at the level of a bishops conference which are decided only here and again here they're decided in different ways so paragraph what you're asking about is something that is not within the scope of the church in the Amazon to decide and so it needs to be reflected on at a different level so there's I have a question here in first line Good evening Beatriz García del CAP de Perú my question was to Monseñor David as obispo amazónico as obispo who will some days will be in the Amazon and in name I think of the majority of the obispo amazónicos who have participated in this synod what have for those people who waiting the result of this month thank you well well the message is the first that I would say is the we are alone we are the Catholic we have come to Rome we have come to participate convocados by the Pope this synod and the Amazon we have put in the heart of the Church we have put in the heart of the Church because we want to it in the heart of the world because the world needs to know what is what is what is happening in the Amazon because what is happening in the Amazon is atent to the life of the most simple people atenta contra la vida de los pueblos y se vuelve contra todo el planeta entonces lo que yo les lo que yo les quiero decir lo que yo les voy a decir ahora cuando vuelva a la Amazonía a la selva a nuestras comunidades es decir estamos en el corazón del Papa estamos en el corazón de la Iglesia y tenemos motivos para seguir esperando y para seguir luchando por la vida luchando por nuestras tierras tenemos motivos para seguir soñando con una vida tranquila para nuestras familias y tenemos la esperanza en Jesús para seguir caminando y quisiera añadir que vuestros representantes los los representantes de los pueblos indígenas que estaban con nosotros repitieron lo que muchos han dicho o sea que quieren que invitan que piden a la Iglesia de ser su aliada y la respuesta es sí bueno Elizalde buenas noches Oscar Elizalde de Vida Nueva hemos visto en varios de los puntos del documento que las palabras pueblos indígenas pueblos originarios se repiten mucho y en esta sala también hemos sido testigos de su palabra lo mismo que ustedes allá adentro como la Iglesia plantea seguir trabajando para que los pueblos indígenas tengan digamos así una mayoría de edad en los procesos de evangelización justamente en torno al tema de ser aliados no pero qué paso se van a dar después de este sínodo para ello bueno de alguna manera el sínodo lo que viene a hacer ha sido yo veo como una confirmación en la fe cuando aquella primera iglesia Pablo va a Jerusalén a ser confirmado en la fe de alguna manera también aquí la iglesia en la Amazonía los obispos hemos venido ante el Papa hemos venido a Roma a ser confirmados en la fe hay ya procesos abiertos muy interesantes en muchos rincones de la Amazonía donde los pueblos indígenas asumen el protagonismo en la evangelización de sus propias comunidades hay diáconos permanentes en Puerto Maldonado que al Papa Francisco una de las imágenes que teníamos en el sínodo era de unos diáconos permanentes entregándole una estola al Papa Francisco era un un signo de algo esa esa imagen hay lugares donde ya se está viviendo esos procesos y de alguna manera este sínodo es como un empujón y como un decir ánimo adelante la iglesia no se presenta como una estructura inflexible donde ustedes con sus con sus tradiciones no tienen espacios sino todo lo contrario la iglesia quiere adornarse también con el colorido de su visión de Cristo y de Cristo resucitado y quiere enriquecerse con la visión que ustedes tienen y con su modo de ser iglesia en ese sentido este sínodo es un espaldarazo es un ánimo un echar hacia adelante a esos procesos que están abiertos y animar a todos los que están queriendo también comenzar nuevos procesos que the second question to to mr. Ruffini and what I would say with regard to the first is that people will have been and will be welcome to share their concerns with the Commission this is what the Commission is considering and reflecting on come avrete sentito nel discorso del del papa il papa ha detto che non è obbligatorio fare un'esertazione sinodale ma che lui pensa di farla tempo permettendo e tempo per scriverla permettendo in tempi abbastanza brevi lui ha detto che spera di farla prima della fine dell'anno certo la forma della forma lo avete sentito insomma ha detto l'esertazione lui ha detto non è usa non è obbligatorio fare un'esertazione sinodale penso di farla prima prima della fine dell'anno si prego buonasera sono gina marti giornalista brasiliana e al di là di messaggio così denso e come monsignor ha detto di era un spinta di dare coraggio di dare credibilità io volevo capire anche come voi pensate che questo messaggio vostro arriva al mondo della politica in questi paesi questi nuovi paesi coinvolti grazie grazie magari è uno di dei è uno di dei reti che abbiamo vero? in altri momenti il papa ha scritto un documento molto importante sulla necessità di che in questo modo la nostra vocazione per incidire in la società come laico e in incidire in la politica quindi precisamente la conversione pastoral della che ha parlato va un pochetto in esa linea di come siamo capi di incidire in la politica è una piccola comunità in una periferia urbana a una comunità nativa fino a le livelli, a le esferi più alti della politica è uno dei reti e uno dei temi anche a cui sempre parlava è la formazione e questo si vive molto in la Amazonia, in tutti i rinconi la formazione dei leader, magari più che in queste iglesi europei io che procedo in questo mondo in la iglesia latinoamericana in i fiei laici si cuida il tema della formazione per poter avere incidencia in lo che è le politiche governamentali in questo modo i nostri iglesi seguiranno lavorando in la formazione dei leader per poter avere questa incidencia in answer to your question for example paragraph 36 the base community the Christian base community which is the smallest unit it's a subunit of a parish must participate in public policy shaping which seeks public policy shaping which seeks to revitalize culture coexistence leisure and celebration that's a small example of an answer to your question the microphone is coming thank you my name is Dorothy McLean I'm speaking English I'm from LifeSite News my question is concerning paragraph 102 what is this new woman community leader ministry that is being asked to create in the Amazon in this number 102 well se habla tiene que ver con lo que ya hemos hablado del tema de la mujer hay en muchas de las comunidades en la Amazonia las mujeres son las que están dirigiendo las comunidades y son coordinadoras de comunidades o catequistas de comunidades y sentimos los pastores que hay como un vacío en el reconocimiento de la mujer como que el varón tiene reconocido institucionalmente su ministerialidad dentro de la iglesia y se siente un poquito el vacío de ese reconocimiento también a esos roles que desempeñan muchas mujeres en la Amazonia en las comunidades entonces es un llamado a una creatividad ¿no? quizá el señor no ha logrado esbozar bien qué es en concreto lo que se busca pero y el mismo Papa también nos estaba llamando a ser creativos y hoy mismo nos decía ¿no? a que seamos creativos en esos ministerios que ya se están desarrollando e institucionalizarlos darles una forma ¿no? e ir creando también otros nuevos que son necesarios para la vida de las comunidades y un ejemplo de eso son los ministerios directamente conectados con la ecología que no tenemos una manera de reconocer y de bendición y de comisiones en la iglesia pero que son essential para la vida de la comunidad y finalmente para la vida de la planeta Dottor Rusconi poi chiudiamo Allora Giuseppe Rusconi Inside Vatican Rosso Porpora Org non sono ancora riuscito a leggere tutto il documento però a prima vista mi sembra che non si ritrovi nel documento l'espressione chiesa dal volto amazzonico me lo potete confermare perché nell'instrumento laboris si parlava anche nei titoli di chiesa dal volto amazzonico qui vedo la chiesa in uscita la chiesa dal volto migrante il volto della chiesa nei popoli amazzonici ma non trovo chiesa dal volto amazzonico mi potete dire qualcosa voi che soprattutto penso il cardinale Cerni il documento lo conosce molto bene sì grazie cardinal certamente in l'instrumento amazzonico uno è il punto 54 e l'altro è il punto mi pare 92 dove trovi il rosso amazzonico 92 magari me ne è sfuggito qualcuno perché anche noi lo abbiamo guardato però insomma sì 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 rosso rosso amazzonico devi guardare poi la versione spagnola io c'ho quella di lavoro italiano ricordo che la traduzione è di lavoro quindi può darsi che l'italiano non corrisponda esattamente alla 92 una iglesia con rosso amazzonico anche credo 86 una domanda ancora qui davanti buonas noches Minerva Vitti di la rivista SIC del Centro Humilla in Venezuela si ha parlato molto di dei peccati ecològici e uno dei protagonisti di questi peccati ecològici è il extractivismo le corporazioni di la mano di nostri governi sono loro che sono depredando la region amazzonica e a nostri culturi io vorrei domandare in concreto come la iglesia in alianza con i poboli indigeni può fare incidencia in questo punto incidencia con queste corporazioni just oggi in la tarde in la Transpontina un compañero unos compañeros di Brasil venivano a justamente reclamare perché passano nove messe che moriron più di 270 persone per un derrame di un lodo in industria e questo passa a diario hai derrames petroleros hai extracción di minerali però pareciera che 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 fare una incidencia in questo si precisamente uno dei punti il numero 182 habla del peccato ecológico che di una maniera con la laudato si ha ingresado en la doctrina social de la iglesia el tema de la ecología del cuidado de la casa común de tal manera que hoy ningún creyente ningún católico puede vivir su fe en comunión con toda la iglesia desoyendo este grito de la tierra tiene que tener la conciencia de que agredir a la tierra es un pecado y es un pecado en este caso hemos dicho el pecado ecológico ya ha habido intentos porque en cada rincón de la amazonía las misioneras los misioneros con los pueblos indígenas se encuentran con situaciones patéticas como la que has citado verdad bien puede ser por la sacción del oro bien puede ser por la contaminación de mercurio bien puede ser por miles de causas muchas veces con los derrames de estas industrias verdad o de estas empresas hay intentos ya de tener desde la repan de tener incidencia ya de unirnos uno de los motivos por los que nos juntamos con esta red eclesial pan amazónica era eso para unir esfuerzos y poder tener una voz conjunta pues ante organismos internacionales como pueda ser la misma ONU verdad ahora lo que se plantea es el crear en el número 85 un observatorio socioambiental pastoral verdad es una idea una necesidad de unirnos de no dejar solos en cada rinconcito a cada uno en un salve si quien pueda sino unirnos precisamente para hacer esa incidencia en seguimiento a la pregunta yo soy Pedro Landa de la red iglesia seminaria este observatorio que se plantea crear cuál es el alcance y el mandato que tendría este observatorio porque hemos visto procesos similares como en Canadá el gobierno canadiense donde están radicadas la mayor parte de las empresas mineras han creado observatorios han creado inclusive consejeros de responsabilidad social corporativa pero al final se quedan más en rendir un informe que en hacer una verdadera incidencia para la transformación entonces mi pregunta es hasta dónde va llegar este observatorio cuáles son los alcances para realmente promover un cambio en Amazonía don't know that the bishops of Amazon ever had the chance to spend time together and exchange together from the different countries so this itself already a step forward in living the mission of the church in the Amazon hola buenas noches jonathan palma del universo de ecuador me entrevisté hace unos días a una dirigente indígena de mi país quien me indicó que tenía o tiene gran expectativa de que una de sus propuestas contenga este texto la verdad por razones de tiempo no lo he podido leer y quería preguntar si consta justamente algún párrafo relacionado con esa propuesta de la líder indígena quien me manifestó que de acuerdo a información que obtuvo el Vaticano tenía inversiones de alguna manera en actividades extractivistas quería saber si dentro de estos párrafos hay algún apartado relacionado con aquello porque según lo que me contó en algún momento ella se enteró que efectivamente el Vaticano sacó inversiones de este tipo de actividades por favor si the answer es yes I don't know the number but if you look at the document carefully you see the answer is yes and I should say yes yes the issue of investments and of disinvestment is what is dealt with there in that point good evening my name is Andrew White I'm a science journalist based in Colombia my question is I have met with quite a few scientists who were here and they got to meet each other for the first time many of them from Brazil and Peru getting together I would like to know what sort of influence that not having votes but being experts and being present what influence has the scientists scientific experts had on the final document they well they have many there's many ways in which they influence one is but maybe the most important is that they translate suffering because that's what we all first experience is suffering we and this is one of the important things that Pope Francis says at the beginning of Laudato Si we consider these questions not to feed our curiosity but to suffer because suffering is what then leads to conversion and to change and to doing something about it so these scientists help to translate the suffering which we are witnesses and which we ourselves experience into data into hypotheses and into proposals and I think that what impressed many of us at the listening to those who had a scientific background is precisely that they spoke about the urgency or the drama of the situation in terms of the planet suffering they helped us to feel how badly things are going it's a bit like what the fires helped us to do a few weeks ago the fires brought the thing home to us in a way that graphs or other visuals didn't so they if you like they drove the scientific facts home to us in a way that we could feel them but they also helped to translate our concern into hope because they said there are practical and reasonable solutions at hand there are reasonable solutions at hand the trouble with the solutions that they're proposing is as I said at the beginning that they involve conversion they aren't more of the same they aren't more technology more high-tech more electronics more chemicals more metals they're not that and that's what we like to hear we want to hear that there's a plastic solution that's not going to affect our lives that's what we want to hear and they didn't say that there isn't a plastic solution that's going to solve the problem that will allow us to go on living the way we're living instead they said that there are very reasonable options for the Amazon to prosper if and only if the trees keep standing and the water keeps flowing if the trees keep standing and the water keeps flowing there's hope for the Amazon there's hope for the Amazon people and there's hope for us all but if we insist on tearing down the trees and digging up the land because we can't live without the metals and the gold and the wood for our fancy furniture you can fill out the rest e anche la responsabilità che questo vuol dire. Penso che se impariamo a camminare tutti insieme veramente qualcosa della cura per la nostra casa comune possa essere portata avanti. Grazie mille. Grazie a tutti voi, grazie a Monsignor David e a Cardinal Cerni che hanno parlato oggi. Mi unisco anch'io al coro dei ringraziamenti per il vostro lavoro e ci vediamo molto presto, c'è ancora da lavorare e domani c'è la messa per la chiusura del seno. Arrivederci.